come si chiama il paese a cui dobbiamo andare? Verne vetro, glass, e se tutti sfuggono cosa glass? Plasti, pet, plastic, plastica Tutti? Tappi Non ci credo, un po' di grazia perché sarò io fosse che sono diversamente giovane ma è gradievole no o no un apicoltore sta lavorando siamo arrivati alla chiesa Santora San Pancrazio Carizzona Lampogno 020 scaria 1 l'anzientale 1.30 l'anzientale 30 se non vado errato Lampogno andiamo su di qua eh eh ma io ci credo 020 Lampogno 020 minuti secondo dicesimo motile clarino con osteno ecco questa è la chiesa di Sant Pancrazio se vieni fino a qua lo vedi vedi un col di lago vieni vai a vederli vieni qua fino a qua 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 sono io guarda vieni qui 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 poi c'era ciò che fa notizie per esempio questo questo vasone qua fa notizie attiri lo sguardio hai accogli ci sta? bella chiusa ciao eh sì ecco qui pare bene centro sportivo fru loco Rampogno Verna eh eh ah 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.